Il film è ambientato in un mondo post-apocalittico, che è stato devastato da un virus mortale. Sia gli uomini che le donne possono contrarre e portare il virus, ma misteriosamente sta solo uccidendo le donne. Ha creato un caos in tutto il mondo, e gli scienziati stanno lottando per trovare una cura. Il virus è molto strano in quanto non ha avuto origine da organismi, ma è invece caduto sulla terra sotto forma di cenere. Il mondo intero è bombardato da queste strane ceneri, apparse letteralmente dal nulla. Con il passare dei mesi, la popolazione femminile sta diminuendo rapidamente, minacciando quindi un'estinzione, e poiché le donne possono contrarre il virus dagli uomini che vivono nelle loro vicinanze, i governi in tutto il mondo hanno avviato una campagna antivirus. Secondo questa campagna le donne vengono ricollocate in un campo di isolamento con la promessa di tenerle al sicuro, ma in realtà sono costrette ad andare lì, dove su di esse vengono condotti vari test crudeli e dolorosi per scoprire la vera natura del virus. Di conseguenza, le donne sono diventate estremamente rare. Per dare un contesto alla cosa, una grande ricompensa dal valore di milioni di dollari viene assegnata a colui che riesce a catturare una donna viva e consegnarla al governo. Veniamo poi portati in un appartamento in quarantena abitato da un ragazzo di nome William. All'inizio, sembra un qualsiasi altro appartamento, ma presto scopriamo che anche una donna di nome Eva vive lì, che non è altro che la ragazza di William. Si scopre che Eva è riuscita a sopravvivere finora perché Will la nascosta bene dalle autorità, non permettendole di andare fuori o usare il telefono. Anche se è per il suo bene, Will ha uno stretto controllo sulla sua libertà, e ciò ha avuto un impatto negativo sulla loro relazione. Con ogni giorno che passa, Eva si sente sempre più soffocata nel suo appartamento. Lei è disperata nel voler uscire e vuole sentire il sole. Al quattrocentesimo giorno, Eva raggiunge il suo punto di rottura. Indossa di nascosto una tuta ermetica e corre fino al tetto del loro edificio. Subito dopo Will la nota e le corre dietro, ma prima che possa fermarla e riaverla indietro Eva si strappa il vestito e lascia che la cenere la infetti. Per lei, vivere in quarantena e guardare milioni di persone che vengono colpite da un virus misterioso semplicemente non era una vita che voleva vivere. Will alla fine la convince a tornare a casa, ma è chiaro che sono stufi l'uno dell'altra. Eva si toglie la tuta ermetica e si dirige sotto la doccia, mentre Will crolla sul divano. Dopo essersi ripulita dallo sporco, Eva tira fuori un kit e fa un tampone per controllare se ha davvero contratto il virus. Mentre aspettano il risultato, la coppia sente diverse auto della polizia che si presentano fuori casa. È chiaro che la loro casa verrà perquisita, e nonostante la loro recente discussione, Will fa precipitare Eva nella sua stanza e la aiuta a nascondersi nel letto. In seguito, fa entrare i poliziotti in casa. Controllano il posto per un po', e interrogano poi Will sulla sua identità. Qui, viene rivelato che l'appartamento era in realtà affittato da Eva e dalla sua defunta amica Caroline, che ha perso la vita a causa del virus. Will dice con fiducia che Caroline era la sua ragazza, e che ha costruito la meticolosa zona di quarantena per tenerla al sicuro. La polizia quindi gli chiede di Eva, e lui mente dicendo che è scomparsa da quando il virus ha colpito la terra. Dopo un po', i poliziotti sono finalmente convinti che non ci siano donne nell'appartamento e iniziano ad andarsene, ma mentre gli uomini armati escono, uno di loro si tira indietro e rivela che sa che Eva è lì con lui. Si scopre che il poliziotto ha visto il test del tampone che Eva ha dimenticato sul tavolo. Il test è positivo, il che significa che la donna ha preso il virus. Tuttavia, ha pietà della coppia, e decide di non allertare i suoi colleghi. Prima di partire, dice a Will di godersi i suoi ultimi giorni con lei. Will ha il cuore spezzato, ma è costretto a riprendersi perché l'appartamento non è più sicuro. Inoltre, Eva vuole fuggire dalla città poiché il suo stile di vita appartato e l'isolamento generale l'hanno quasi fatta impazzire. Poco dopo, i due preparano rapidamente le loro cose e abbandonano il loro appartamento. Eva si traveste da uomo, e mentre stanno uscendo dalla città, accostano vicino a un negozio. Li vediamo che gli assorbenti sono stati resi gratuiti, siccome non ci sono teoricamente più donne rimaste nel mondo. Mentre Eva cerca di nascosto di prenderli, il commesso del negozio la coglie sul fatto. È colto alla sprovvista nel vedere una donna dopo tanto tempo, e quando Eva inizia a farsi prendere dal panico, Will tira fuori la sua pistola e minaccia l'uomo di tenere la bocca chiusa. Dopo che l'uomo si è sdraiato a terra per arrendersi, la coppia scappa dal negozio. Mentre se ne vanno, il film torna indietro nel tempo, quando tutto era normale. In tv, un canale di notizie riporta che una rara cometa è destinata a compiere un viaggio vicino alla Terra. Nel frattempo, Will si è recentemente trasferito nell'appartamento di Eva dopo anni passati insieme. Un giorno, mentre i due trascorrono del tempo da soli, alcune misteriose sostanze simili alla neve iniziano a cadere dal cielo. La coppia rimane scioccata perché l'inverno è ancora lontano, ma quando sbirciano attraverso la finestra, si rendono conto che è cenere. Proprio in quel momento, la migliore amica di Eva Carola è in ritorno a casa ricoperta di cenere. Mentre cerca di dire qualcosa le vengono però le vertigini, e crolla a terra. Nel presente, Will ed Eva si fermano in un motel. Lì, notano degli uomini dall'aspetto minaccioso con dei fucili in una delle stanze. Tuttavia, la coppia li ignora e passa la notte nello stesso motel. Il giorno dopo, prima di dirigersi nel bosco, Eva insiste per aver il suo ultimo pasto cucinato in un ristorante. Will accetta con riluttanza e si fermano in un ristorante vicino. Lì, la TV riporta che gli scienziati del Center for Rebirth and Repopulation degli Stati Uniti hanno creato un embrione artificiale. Le ultime prove hanno visto il feto sopravvivere fino a un mese, che è di per sé una conquista storica. Molti leader mondiali hanno elogiato il risultato, in quanto questo potrebbe essere il modo più probabile per ripopolare la terra una volta che la cura per il virus sarà trovata. La notizia riporta anche che il governo federale ha aumentato la ricompensa per segnalazione o localizzazione di femmine americane vive a 2 milioni di dollari. Mentre tutti sono incollati alla TV, gli uomini minacciosi del motel arrivano alla tavola calda e si esaltano per la notizia. A rendere le cose peggiori per la coppia, Eva inizia improvvisamente a sanguinare dall'orecchio, indicando che la sua morte imminente si sta avvicinando. Quando Will se ne accorge, la fa uscire di corsa dalla tavola calda, senza nemmeno pagare il conto. Sfortunatamente, questo attira l'attenzione di un uomo, Arthur, e suo figlio adolescente Casey. Entrambi notano che Eva è una donna travestita da uomo. Poco dopo, Eva inizia ad avere un'emorragia, spingendo Will a farsi prendere dal panico poiché è la prima fase del ciclo di infezione. Frustrato, inizia a leggere l'intero ciclo a Eva, facendola arrabbiare. Lei ordina quindi di fermare l'auto e poi corre verso dei cespugli vicini. Tuttavia, quando arriva un po' lontano, si stanca e inizia a piangere. Dopo qualche tempo, lei ritorna e la coppia continua il loro viaggio. Presto si avventurano nei boschi alla ricerca della loro destinazione finale, che si rivela essere una cascata segreta. Will è sconvolto dal pensiero di perdere l'amore della sua vita, ma dall'altra parte Eva sta cercando di essere la più allegra possibile, desiderando di sfruttare al meglio i loro ultimi momenti insieme. Il film si sposta ancora una volta al passato, a quando Caroline è svenuta a causa del suo contatto con la cenere. Will ed Eva la portano immediatamente in ospedale, ma viene presto dichiarata morta. Mentre la coppia vaga per il luogo devastata, si rendono conto che solo le donne vengono contagiate da questa misteriosa malattia. Rendendosi conto che la vita di sua moglie potrebbe essere in pericolo, Will si intrufola in una stanza proibita dell'ospedale e ruba due tute ermetiche, in modo che possano proteggersi dalla cenere. Poi, attraverso l'ingresso sul retro, scappano. Una volta tornati a casa, chiamano il padre di Eva, Maesh, che si scopre essere un medico. Maesh rivela che anche nella sua città la cenere ha colpito, e migliaia di donne sono già morte. Suggerisce quindi alla coppia di preparare una zona di quarantena, e Will si mette subito al lavoro. Inizia a mettere in sicurezza la casa con mobili, plastica resistente ai germi, e vari altri elementi di sicurezza. Eva è molto disinvolta riguardo alle misure di sicurezza, mentre Will è più serio e attento a tutto. Sta sveglio tutta la notte a far bollire l'acqua, e al mattino va al negozio a prendere del cibo confezionato. Installa anche luci ultraviolette intorno alla casa che uccidono gli agenti patogeni e i germi. Inoltre, sta sempre lontano da Eva, sapendo che può trasmetterle la malattia. Passano diversi mesi, ma il virus continua a mietere sempre più vittime. Alla fine, il governo chiede a tutte le donne di andare nelle strutture mediche controllate dal governo per il progetto Embrio, che a quanto pare intende trovare un modo per ripopolare la terra. Il governo e i media controllati cercano di dipingere un quadro rosio dei centri di detenzione, ma Internet è presto inondato di teorie del complotto su orribili esperimenti condotti sulle donne. Perciò, Will si rifiuta di consegnare Eva al governo e costruisce in via precauzionale un letto dove potrà nascondersi dalle autorità. Nel corso dei mesi seguenti, Will diventa estremamente paranoico e una dopo l'altra toglie tutte le libertà di Eva. Le proibisce persino di usare il suo telefono, temendo che il governo li stia ascoltando. Senza nessun altro con cui parlare, Eva si rivolge a un forum online segreto tutto al femminile per avere compagnia. Will cerca di nuovo di impedirle di usare il forum, ma lei si rifiuta di ascoltare poiché le donne sopravvissute nella chat sono il suo unico modo per aver supporto. Sfortunatamente, anche le sopravvissute dentro la chat continuano a diminuire di numero, dando a Eva un senso di disperazione. Nel presente, Will ed Eva camminano per ore, e lungo la strada quest'ultima continua a scattare foto con la sua macchina fotografica. Di notte accendono un fuoco, e si sistemano in un campo. Eva desidera ardentemente dell'intimità, e chiede aiuto a Will per toglierle il nastro adesivo che aveva legato al petto per spacciarsi per uomo. Tuttavia, Will è freddo e distante, e dopo averla aiutata torna alla sua tenda. Il giorno successivo, continuano il loro viaggio ed Eva continua a provare a rallegrare il suo ragazzo. Will finalmente inizia a illuminarsi, e insegna a Eva come sparare. Dall'altra parte, vediamo il tuo padre figlio di prima, Arthur e Casey, che guidano nei boschi. Vogliono rivendicare la ricompensa di 2 milioni di dollari catturando Eva, e si scopre che hanno seguito la coppia nella foresta usando la mappa che hanno lasciato al ristorante. Presto, anche i due si avventurano nella foresta armati di fucili. Di notte, Eva e Will tornano a sedersi su un campo, e mentre procedono a fare l'amore lei soffre inaspettatamente di convulsioni. Entrando in azione, Will le accarezza la testa e la aiuta a rilassarsi. Il giorno dopo, Eva si sveglia presto per andare a prendere dell'acqua dal fiume. Tuttavia, quando torna indietro, nota Arthur e Casey che tengono Will legato strettamente contro un albero. Arthur alla fine individua Eva e la insegue, ma lei riesce a fuggire. Rimasti senza scelta, il tuo padre figlio continua a tenere in ostaggio Will nella speranza che Eva torni per il suo bene. Di notte, Casey fa la guardia con un fucile mentre suo padre dorme. Eva pensa a un piano da sola, e nel cuore della notte si presenta spogliata, avvicinandosi in modo seducente a Casey. L'adolescente è ancora sconvolto per la morte della sua ragazza, e non vedendo una donna da oltre un anno si distrae per la sua bellezza. Questo permette a Eva di metterlo fuori combattimento. Dopo questo, libera Will dall'albero, e senza perdere tempo prende il fucile e spara Arthur a morte nella sua tenda. Il film torna quindi al passato, ed è il giorno 400 da quando tutto è diventato deprimente. Eva trova diverse chiamate perse da suo padre sul suo telefono. Questo la preoccupa, siccome hanno deciso di non chiamarsi al telefono a causa delle misure di sicurezza. Rendendosi conto che è successo qualcosa di brutto, insiste nel parlare con suo padre, ma Will accetta solo una videochiamata con fotocamera e microfono disabilitati. Durante la chiamata, il padre sconvolto di Eva rivela che il governo ha preso sua madre, nonostante abbia più di 60 anni. Scoppia poi in lacrime, ed esprime il suo desiderio di vedere sua figlia, ma quando un'emozionata Eva procede ad accendere la fotocamera e il microfono Will interviene e riattacca. Di conseguenza, Eva in lutto perde la testa e si scaglia contro di lui perché la tiene intrappolata. Il punta poi contro una pistola, e gli ordina di andarsene per sempre. Dopo che Will se ne va con riluttanza, Eva nota una foto della cascata sul suo laptop. Le ricorda tranquillità, amore e libertà, quindi decide di avventurarsi fuori. Indossa quindi la tuta ermetica, e si precipita sul tetto del complesso di appartamenti. Tornando nel presente, Will ed Eva continuano il loro viaggio e alla fine arrivano alla cascata segreta. Lì, la coppia si abbraccia, sapendo che saranno sempre anime gemelle. Will la bacia e lei scatta un selfie, pronta a morire mentre sanguina, perdendo energia ma in un'atmosfera di felicità e sollievo. Eva sente che stava gravando su Will, e mentre attende la sua morte sorride, sapendo che il suo amato potrà presto vivere una vita degna. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.